ciao raga c'ho la voce che fai? sto saldando il fast infurius questo l'ho fatto ora provo questo per sicurezza spingiamo ciao raga! fischia piove? no di più! grandina questo l'ho fatto rimettiamo questo qui per ricordarsi ok più io ci ho messi in verde vabbè è uguale perché in verde l'è quello dei fari e porta la corrente quindi vabbè lo stesso in nero nella massa allora io vi spiego un attimino ho preso sono tre led più tre led va bene l'ho copiato insieme l'ho incollati che erano di quell'allarme lì un led era da una parte un led era dall'altra scopo ho cambiato gli allarmi a casa e questo io non ne facevo nulla allora poi avevo il faro della vespa di dietro che non è a led e non so nemmeno dove ho messo la lampadina comunque va bene io ora prendo questa piastrina e mi son costruito da solo ce la schiaffo qui bene stando attento alle visi e mi son fatto il farino a led vediamo se funziona con una batteria da 12 volts perché io ho l'impianto a 12 volts ora vi ho messo un maschio o una femmina perché il maschio va sul filo che porta la corrente e la femmina va a telaio allora vediamo se ce la faccio ce la faccio non ci sa un morsetto o un canino ecco se no con una mano e si fa poco bene a mano a mano allora il nero lo andiamo a poggiare qui intanto vediamo un attimino se funziona proviamo un attimo vedere se funziona vediamo un attimo accendiamo questo fa e questo fa perfetto poi mi chiederanno che motivo ci aveva ma quelli sono solo fatti nostri e vediamo se questi led funzionano tac aspetta facciamo così però proviamo con il faro e ora non è da provare sul faro ma è da provare sulla vespa quindi andiamo a provare sulla vespa bene un attimo stai pure tranquilla e beasa allora questo ho detto che si mette qui però prima di metterlo lì noi si fa un bel lavoro un bel lavoro facciamo noi vediamo questo il setto di estro più grande la vedo a mettere vabbè tanto per un fallandarte laio ci siamo ma rimandiamo ragazzi c'è negozi aperti oggi e questo lo andiamo ad attaccare qui ora il problema è come mettere questo qui perché questo va a bocca così alla iubono piero piove lascia fare non si può dire ora te la ribuoi però se andavo prendiamo una bussata d'acqua vedete è un entra no non so andavo e va domani c'è anche domani sì se non piove se non piove se non piove mi diceva mi nonna si fa da sé e fa per tre se no e si compra le cose belle fatte che non torna allo stesso no guarda lì cosa dalla Germania dove ho messo la vite ma che sta la vite due eh qui non so due cucci io ti voglio bene ti amo ho detto sei bene sì però mi serve il cacciavise non sono te lo ho messo come lo vuoi a taglio questi quell'altro deve essere sotto la ruota sì con l'altro non so se trovi buoni anche questa era quella che andava di là che una più larga una più stretta allora sotto la ruota eh lo vuoi cascare lì però ragazzi hai visto dove è cascare la vite no è la cascare ma non si sa no l'ho sentito proprio che cascare la lanterna vabbè intanto si mette questo dai si può sta a far fullare a far fullare è bello guarda 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 ti è vise bastardi eccola eccola ciao è delice gommino intanto te lo trovi bu lo faccio vise ste visi il faro un pianto un lamento via no è il faro che ci vuole la visi di sotto la strizzata ci vuole funziona grazie no chi si è aspettato come aspettato chi si è fatto a fare vabbè l'ho fatto te mi ha aspettato guardarlo davanti prima non fa no c'è scritto fake dai dai anche te è proprio a bit allo a fallo eh e questo è bello uno mentre fa da mangiare o fa le cose si guarda almeno si stringe anche sto faro ma se faceva ora riferdi la vita ecco la qui allora questo va strizzato di sotto e si strizza dopo di sotto perché questo non fa se questo no questo è a massa questo è a massa e deve funzionare è a massa deve funzionare per forza ma per forza deve funzionare il contrario è a massa no, non fa tutto non si sta a cair fino a che sta a cair Grazie a tutti. Non fa. Però, oh, in dove l'ho messo, in dove l'ho messo il legge. No, ecco, già è lì, lì sopra. Lì. Ma che ne mandiamo? Fai vedere. Soffiammare, non fanno più. No, aspetta. Mi fanno uguale. Perché qui non c'hanno i regolatori della corrente. Ora, te che tu sei specialista, andate la messa la lampadina lunga, qui? Lunga come? Lunga così, qui? Nella rossa. Questa è la rossa. Quella? No, questa è della pizza. Ah, lunga, sono qui. Quelle fatte a Siluro. Sono tutte i denti. 12? 12 è questa? Sì, tutto da 12. Eh, bravo, l'ho messo a posto ora. Ora tu ne buschi, eh. Non mi fai il vero, tu mi metti la mano addosso, guarda. Mmh. Tocca aspettare domattina. No. 12, vai. Ah, dovevi fare la prova? Se ti avevo messo era 12, credici? Sì, ma io voglio mettere questa al legge. Ah, sì. Ma fai una led in culo. Ci fa un altro giorno. No, fermi, fermi. Ferma, ferma. Sì, si muore, si muore. Lascia fare. Se ci si droga questo profumo, noi... Mmh, per favore. Non mi usci un po' inocchio, sennò fuzzo di ossa. Ahah! Ahah! Aspetta, eh, si fa una surprise. Non mi riprende, non mi riprende. Può vedere solo questo, guarda. Ti aspecchi riflesso. Guarda. Quindi, fai prima andare da cinese a comprare le lampadine e stare lì un'ora a sardare, a cosare, e poi si fiammano. Vediamo. Raga, oh, comunque... Chi mi ha visto su Instagram, su WhatsApp, ora non piove più. Ma ormai non viene per nessuno, a San Mignato. Un saluzione, raga, fischia. Da me? Eh, no. Eh, no. Ciao, raga. Si va a Domana Puntedera? Si è un tempo permettendo, perché qui... E sennò qui che si va? Le occe di grandine. Vai, un abbraccio. Si fa un'altra cosa. Appunto, c'è una tante cosa da fare. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi.